Ciao a tutti ragazzi, qui è il Magnifico98 e benvenuti a questo nuovo episodio di Minecraft The Fapper Siamo nell'episodio numero 22 Ho visto che ci sono stati abbastanza contenti del ritorno Abbastanza per quel poco Ma vi ringrazio lo stesso Allora Vi avevo chiesto di screenshot di mulini ma non me ne è arrivato manco uno Quindi ne ho guardati, ne ho trovato qualcuno io Ho trovato questo Se lo trovate, trovate il modello semplice senza le trapdoor Le ho aggiunte io perché tipo nei mulini a vento ci sono quelle trapdoor Cioè non le trapdoor, come posso dire? C'è tipo legno fatto tipo a retina, no? In questo modo il vento le fa girare, così sembrava più figo Ma è possibile Cioè guardate quanta gente Ma io non lo so Ci può essere tutta questa gente alla babbe Quindi il modello sarebbe questo Però Ma è molto importante che vi spiegherà un po' di cose E vi farà capire soprattutto perché faccio 10 minuti Intorno ai 10-12 minuti di video ogni volta Quindi considerando che all'incirca 2 minuti sono passati a 8 minuti, 9 minuti Fermo la registrazione Ok, allora io tecnicamente volevo, volevo, volevo provare questo invece dell'acacia Perché il Dark Hawk lo utilizzeremo sicuramente Però volevo vedere come stava senza acacia Solo con questo qui E in caso andremo a... in questo episodio non lo farò il murino Se non ho... se riesco a prendere un po' di tempo lo faccio Se non ho perché sono veramente impegnato E poi il motivo ve lo spiegherò No, non è meglio la caccia E poi il motivo ve lo spiegherò come oggetto nel prossimo video Che probabilmente sarà appunto il prossimo Quindi, loghiamo Ok, ok Ho visto un commento di un admin di una pagina di Facebook Che io conosco, diciamo, più o meno Serve terra Salta, ok Ok, che io più o meno conosco la pagina Lui l'ho conosciuto recentemente Che mi ha detto di allargare un po' di più questa specie di campo Cosa che a me non dispiacerebbe affatto Anzi, lo ringrazio del commento E anche della sua iscrizione Quindi, cosa andiamo a fare? Andiamo a togliere tutte queste Perché tanto se da lì sono tre un altro livello Lo possiamo sempre aggiungere Non ci sono problemi E aggiungiamo il livello sia di lì che da questo lato Ve lo farò vedere perché Come ho detto, poi vi spiegherò Non ho proprio il tempo di Fare tagli Di tipo Già un'ora di registrazione Per me è troppa Anche di Perché qui mancano semi? Sta cosa non mi quadra Datemi semi Pretendo semi Due Ok, perfetto Grazie Gentilissimo Perché non ci sono sti tre semi qui? Boh Vabbè Comunque Spero che l'audio si senta bene Spero Io non so perché ogni volta lavoro di notte Vabbè Fa nulla Teniamo easy per il momento Quando dobbiamo costruire Quando tipo andiamo in esplorazione Che giriamo Poi magari Mettiamo normal o hard Poi vediamo Dai su Mamma mia che bordello che devo fare Per aggiungere un altro livello Quindi Però c'è un problema Mi sa che tipo No Serve uno stack All'intorno Circa sì Uno stack di erba Di semi Vabbè Fa nulla Dormiamo Anche se è l'alba Ma noi dormiamo all'alba Fa troppo mainstream Andrò a dormire prima Quindi Che devo fare? Sì Devo prendere la nostra amatissima zappa Che prenderò dal coso di patate Quindi Apriamo l'acqua Sì Nel frattempo Si apre lì No Ecco la zappa Perfetto Chiudiamo Questo qui è stato il mio primo circuito di redstone Che carino Perché tipo metà semi non sono entrati Vabbè Li prendiamo tutti Eh Sì Li dobbiamo ripiantare Dove quanto crescono veloci Peccato che non siamo tipo nello snapshot Perché sennò mi sarei potuto permettere il lusso Il lusso E ve lo dico Me lo sarei preso io Va bene Senza il vostro permesso La serie è mia Oddio ho mangiato la carne macchina e mi ha avvelenato Che cool Cioè ho proprio beccato La percentuale quella lì Di proprio Bassissimo Quindi ora zappiamo tutto Zappiamo tutto Zappiamo tutto Zappiamo tutto Oh Ok Perfetto Se vi secca guardare questi momenti Puete andare direttamente alla fine del video Dove farò lo screenshot Di fine video che metterò come miniatura Ok E ho appena realizzato Che non mi basteranno questi Me ne servivano 4 in più Vabbè Fa nulla Madonna Sante sti cespuglie Ma dove stanno sti zombie? Dove stanno? Dove? Vedi Ti stai conto Che bordello Che fanno? Dai su Dai Ok Mi mancano giuste 4 La prendiamo da qui Sarebbe una cattiva idea È più carino così Sì è più carino così Più carino e coccoloso Ne andiamo a mettere apposta Anzi non ci riteniamo nell'inventario Perché non si sa mai Mamma mia Quante canne da zucchero Piazziamo questa Anche se tipo Non sono nulla In confronto a quelle che ci servono Ok Uh Mio Semino Uno solo Dai Ma ora che ci penso Ora che ci penso Ho realizzato Che Ma ma che big idea Che mi è venuta adesso Dai dai corri 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 Nessun cheat eh Giuro Dai che qualcuno ha già capito Bravissimi Se non avete ancora capito In che cosa sto giocando Mettiamo hard così ne spawna di più Sì Ne spawna Io farmo un pochino di ossa Sì Perfetto Vai venite Intanto qui Me le prendo tu Madonna Quante ossa c'ho Un po' Eh la madonna E quando l'ho fatta Ste cose Boh Vabbè Dettagli Da arrivati agli ultimi Potete anche morire Per me non ci sono problemi Ah qui ho aggiunto anche queste cose qui Non ricordo se ve le ho fatte vedere Credo arrivino al livello 30 Sì Vabbè Non lo posso vedere Morite O no Dai Ok Quindi Ora mettiamo Spacefull Perché sennò fanno un bordello della madonna Come potete vedere ho anche messo la Pupupu Come la zoom Ho messo lo zoom Perfetto Quindi Possiamo anche andare Però secondo me S'è un po' troppo Questo Innanzitutto facciamo questo 57 va più che bene Dai Facciamo così 61 stack Facciamo crescere Un po' di Un po' di grano Comunque Tengo a salutare L'admin Della pagina facebook Che ha commentato il mio video E Probabilmente Se mi ricordo Lascerò anche il link Della pagina facebook In descrizione Non la mia Perché lì dovete sempre Passarci Vi raccomando Non rompere tutto Ok Quindi Boom 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 Dai Lo sprechiamo tutto Tanto non fa nulla Poi penso che tipo Rimarrò Fk 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 Un bel po' Per Far crescere tutto Quanto Rimarrò in pace full Ovviamente Perché se no Mi distruggono E poi perdo tutto Quanto Ok Usiamolo tutto Tanto Guardate Guardate che figata Che verrebbe Guardate Mamma mia Poi tipo Con Questi slab Che ho messo Poi Se tipo Li rompo Non A poco che non Li romperò mai Questi Però se li rompo Non cadono Ok Dai Tanto Li dobbiamo rompere Gran parte Quindi Ok Ok Non Ne rompiamo Troppi Ok Così va bene Poi in caso Ne servono altri Li prendiamo Sicuramente Ne serviranno altri Quindi Li piantiamo Qui Li piantiamo Qui Non ci bastano Manco Per il cazzo Credo E infatti Sì Dobbiamo romperli tutti Perché i semi Sono bastardi E Sono bastardi Punto La mia domanda è Con questi qui Ce la faccio Ripiantare tutto Ma Certo che Non ce la faccio Certo che Non ce la faccio Sicuramente Non ce la faccio No 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 Non ce la faccio Questi quanti sono Uh Due Vediamo Dai Dai Quanti ne mancano Due Quattro Dieci Hai Sì Mi ho fatti Crescere tutti E li devo distruggere Non è giusto E manco qua Mi bastano Cioè rendetevi conto Quanto sono Bastardi Solo due Ma non ce la faccio Ma non ce la faccio Manco a farli tutti Che culo No ma che culo Cioè che culo Proprio che culo Ehm Quindi 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 Questo episodio è stato abbastanza Di let's build E nel prossimo Vi giuro Che Domani uscirà Il video Quello lì Importantissimo Credo Non so verso che ora Ma No no Domani no Dopo domani Aspetta Calmi Calmiamoci Oggi è 8 Domani Che registro è 8 Voi vedrete questo video Il 9 Domani A luna No A luna Perché con la programmazione Lo posso mettere a luna Tipo lo carico adesso Ma uscirà domani a luna Ehm Uscirà domani a luna E quindi Domani Che è 9 Per me è 9 Per me è domani Sto brogliando Mamma mia Per me è 9 Il 9 Io Registrerò Lo special Non lo special Vabbò Posso anche considerarlo come special Speciale dei 140 iscritti E se ci arriviamo entro domani Ehm Speciale dei 140 iscritti Ehm O me lo metto come speciale dei 100 Poi vediamo Ehm Parleremo di questo video Di queste cose importantissime Che non vi dovete assolutamente Perder Che uscirà sempre il 10 All'una Quindi Facciamo uno screenshot Anche se non è molto diverso Da come l'abbiamo lasciato Ma fa nulla Madonna Che è sto Sto zoom Allora Mi caccio Questa Questa parte No allora Allora Calmi F5 1 2 3 F5 Ci giriamo Boom Ok Penso Si dovrebbe No No Cosa ho visto Cosa vedono i miei occhi Pixelosi C'è un cubo senza Dobbiamo salvarlo Vieni qui Cubo pixeloso Perfetto Quindi Un po' di terra Ok un po' di parkour Non guasta mai Quindi No Cosa sto facendo Quindi Io Spero che questo video Vi sia piaciuto Se state così Lasciate un like Un commentino Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Commentate se volete Che costruisca Qualsiasi cosa Anche qualcosa Più impensabile Tipo Non so Fai una stazione spaziale A 200 Per dire Io Il mio nome Come sempre Magnifica98 Lasciate un mi piace Anche alla pagina facebook Come sempre È in descrizione Noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti